Volete rimanere un po' leggeri? Facciamo una bella carbonara vegetariana con zucchine pecorino, parmigiano, basilico, cipollotto tagliatelle e uova super fresche Iniziamo subito, sì, con che cosa? Con le zucchine Allora prendo le zucchine, oh! Sentite? Pronti? Si è sentito? Ecco, così da un S Se no, non le compriamo, ok? Quindi, dobbiamo sentire che scrocchiano Allora, se le zucchine sono piccole così la tagliamo a rondelle, ok? Non troppo sottile si deve sentire sotto ai denti la zucchina, ok? Se la zucchina è leggermente un po' più grande, come questa qui che cosa facciamo? La tagliamo a metà zacchete così e la facciamo a mezzaluna, ok? Adesso il cipollotto togliamo come sempre la prima camicetta Anche qui, che facciamo? Io farei in questa maniera, guardate Tagliamo il verde e questo sarà la cipolla che useremo Fino al bianco arriviamo, così Ecco qua, perfetto Adesso l'olio Può essere buono, non può essere altrimenti Non abbondante, è abbastanza Né troppo né poco Poi mettiamo le zucchine il cipollotto insieme così perché non lo dobbiamo fare rosolare il cipollotto se no si si brucia troppo e poi partiamo Nel frattempo i fiori di zucca li apro siamo fortunati perché queste zucchine ce l'hanno stupendi leviamo il pistillo e tagliamo in questa maniera grossolana così guardate così e mettiamo qui dentro un pizzio di sale, poco e giriamo le facciamo andare bene bene però velocemente con un col fuoco alto l'induzione ha al massimo la potenza perché vogliamo che rimangono croccanti no crude, croccanti adesso secondo lavoro la cosa più importante la carbonara come la favo allora uovo intero uno intero e poi due duorli mettiamo questo è uno ecco zucchino antebrucia, aspettami aspettami ecco qui perfetto ci siamo mi piace così colore vivo guardate il colore vivo è fantastico e io lo fermo qua basta perfetto così stop allora quindi ripeto due duorli un uovo intero per due persone gratto il parmigiano allora con la zucchina sta molto bene il parmigiano ma anche il pecorino ci sta bene a morte sua quindi io farei un po' e un po' guardate così come va sta grattugia vi piace eh la volete comprare? sta nei link sotto gli ingredienti guardate qui pecorino e adesso mescoliamo guardate qua bella che meraviglia guardate qua stupendo pepe nera a volontà quindi velocissima sta ricetta eh guardate a volontà e adesso buttiamo la pasta che pasta buttiamo? io due tagliatelle le metterei qua dentro che ne dite? è la morte sua uovo uovo stanno bene insieme quanto le mettiamo? eh io farei così guardate eh guardate che spettacolo guarda mi sono cartate mamma mia che spettacolo Leonardo sei un maestro da pasta d'uovo allora queste qua ci mettono pochissimo cinque minuti una cucchiaiata proprio la tolgo di zucchine così me la tengo da parte a quest'ora con sto caldo con questa situazione che volete fare? cucciate il bella? vabbè dammela prima a camera uno dai dai dammela ok ora siamo pronti? sì che buona birra d'estate allora mamma mia che spettacolo io vado senza assaggiarle vado sono belle non stracotte sono cotte manca ancora un pochino le facciamo adesso ben insaporire con le nostre zucchine cosa straimportante che cosa manca? il basilico ma come facciamo le zucchine senza basilico? come si fanno? così a pezzettini così bello fresco senti che profumo poi un'altra cosa avete sentito il rumore non è quello nostro qua ci vuole un po' d'acquetta che l'ammorbidisce piano piano eccole qua non è buona così oh un po' di sale è pronta vado? tiro fuori dal fuoco guardate che faccio eh poi metto la mia salsetta di parmigiano, pecorino uova tuorli, uova intere pepe tutto c'è e adesso con questa nota con questa musica vediamo un po' se ci riusciamo a sentirlo eh tutti e due eh lo rimetto sul fuoco piano piano senza farlo cuocere l'uovo mamma mia ragazzi basta 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 aspettate un goccetto di acqua se vedete che si sta coagulando troppo voi intervenite così con un goccetto d'acqua e interrompete la frittata invece che non diventa una frittata mamma mia eh oh questa non è una crema questa è una poesia vai il rumore è quello? è il nostro rumore dell'amore dai ragazzi è questo viva l'estate viva le sudate viva l'amore ahahah allora aspettate vado a assaggiare mmm 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 è buona mmm mmm allora ma dopo che inviti qualcuno gli fai una pasta così ma quanto ti può amare una persona eh guardate così eh quanto ti può amare una persona tieni vai vai così con la mia bella grattugia eccola qua pecorino una grattata di pepe abbondante e adesso assaggio io ragazzi ah che ne penso eh pronti? pronti? viva l'estate viva l'italia viva tutti quanti quelli che amano la cucina e quelli che amano a noi che bontà buonissima vi è piaciuto questo video? certo che sì era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perderete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like oh e andiamo se la mostra con questi like un bacio e un abbraccio a tutti muah